ciao a tutti oggi abbiamo iniziato a costruire la cigar box che è quella chitarra che al momento sta spopolando in america costruita completamente con materiale di recupero infatti come potete vedere dalle clip che vi lascerò tutto il materiale che abbiamo utilizzato non è un materiale pregiato adesso sono qua sto cercando se trovo qualcosa di inutile che mi può servire per continuare il lavoro a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo bisognerà fare 65 centimetri che è l'unica misura importante che ci serve per poter andare avanti. Grazie a tutti. Allora questo qua è il risultato che abbiamo ottenuto per adesso. Come potete vedere il manico come abbiamo fatto vedere prima, qui abbiamo usato una scatola di legno. L'abbiamo sagomato il manico come ci piaceva a noi. Adesso si proseguono i lavori, a dopo. Allora un pezzettino. Penso che questi qua, queste cerniere facciano proprio al caso mio. Adesso le smonto e vi faccio vedere per cosa le utilizzerò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.